Prima cosa bisogna mettere al centro l'argilla. E questi movimenti sotto, spinta, basso, alto, mettono la centra e la rendono lavorabile. Poi a questo punto si fa il foro. Ecco, una volta fatto il foro, finito a fare il fondo, si comincia proprio il pezzo a richiuderlo. Si comincia a richiudere, dipende poi da quello che bisogna fare. E si, e si. E poi con le varie pressioni delle mani, finiamo dove serve e cerchiamo di fargli prendere forma. Poi si prende quest'utensile qui, che è un utensile di legno, la chiamo la stecca, perché è un... che si rifinisce. Adesso si risentono tutti quanti gli spessori, se sono giusti. Grazie. 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 Grazie.